La matematica è bella, ma come tutte le cose belle, a volte un po' faticosa. Una delle prime convenzioni degli studenti in ingegneria è che l'esame scoglio sia l'esame di analisi matematica. Forse questo è un po' vero, ma nella giusta posologia, infatti la matematica ha dei tempi fisiologici di apprendimento, una buona guida e soprattutto buona volontà, l'esame non è poi così duro. Anzi, da molta soddisfazione. Vi aspetto numerosi.